La banca cambia, divenendo sempre più partner di servizi e abilitatori di business, con un'offerta innovativa sempre più vicina e semplificata per le famiglie, i giovani, le imprese, promuovendo uno sviluppo sostenibile, è quanto dichiarato dal direttore della BCC Buccino Comuni Cilentani, Salvatore Angione, al termine dell'Assemblea dei Soci 2019. Tre anni fa abbiamo iniziato un progetto di digitalizzazione, i risultati sono andati ben oltre anche le aspettative. All'inizio avevamo solo 2.000 clienti che operavano sui canali alternativi, oggi sono oltre 13.000 con un ritmo di crescita di gran lunga superiore alla media del sistema e l'operatività transazionale sui canali alternativi a noi ci dà l'opportunità di ulteriormente efficientare i processi e di trasformare la nostra attività in attività di consulenza e quindi che è un'attività che dà valore aggiunto ai nostri clienti e che consente loro di avere un supporto tecnico-professionale anche nell'ambito dell'analisi di sostenibilità dell'iniziativa imprenditoriale. Far parte oggi del quarto gruppo bancario di Crea, del quarto gruppo bancario italiano, a noi dà la responsabilità di poter anche contribuire a decidere su quella che è la vision di come deve essere il sistema bancario del futuro. Direttore, visto che il suo Presidente è entrato nel CDA nazionale di Crea, qual è il suo augurio? Il fatto che il nostro Presidente sia componente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, del quarto gruppo bancario, è un motivo di orgoglio. È un successo che il nostro Presidente ha meritato sul campo e che insieme a tutti noi abbiamo costruito un percorso affinché la nostra banca possa essere un punto di riferimento del gruppo bancario. Quindi questo risultato lo dobbiamo interpretare come un motivo di orgoglio non solo per l'intero nostro Consiglio di Amministrazione, per i dipendenti ma anche per i nostri soci perché soprattutto i nostri soci e clienti hanno concorso a costruire nel tempo una banca che possa essere veramente un punto di riferimento del sistema bancario delle piccole banche. La nostra missione la dobbiamo preservare, avere il Presidente quale componente ci dà l'opportunità di proseguire in questa strategia di impresa che sicuramente deve mantenere in salute la componente bancaria. Ma dall'altra parte dobbiamo essere sempre un'impresa di orientamento sociale votata a creare una strategia rigenerativa del valore e non estrattiva come sono le altre banche che il loro punto di riferimento è solo il beneficio per gli azionisti. Questo darà un valore aggiunto a tutta la nostra classe imprenditoriale e per noi le giovani generazioni rappresentano l'aspetto strategico più importante.